valgoglio ultimo commosso saluto donatilio sarzilla con il funerale celebrato dal vescovo di bergamo monsignor francesco peschi santa messa del primo giorno dell'anno sul pizzo formico si rinnova quella che ormai è una tradizione che ha preso il via nelle 1970 rovetti commercianti la proloco organizzano una merenda benefica con cui raccogliere fondi per le cure negli stati uniti per il piccolo jake buonasera ben ritrovati con il telegiornale di antena 2 e apriamo la pagina della cronaca con un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio in alta valle seriana sentiamo vladimir lazzarini un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi a gromo è successo intorno a mezzogiorno lungo la strada che porta agli spiazzi salendo dopo buario in prossimità di un tornante due auto una mercedes e una jeep renegade si sono scontrate per cause imprecisate a bordo della mercedes che saliva verso gli spiazzi c'erano una donna di 33 anni le due figlie di 7 e 10 anni e la nonna delle due bimbe di 54 anni la jeep che scendeva verso gromo era condotta da una 40 settene del posto per i soccorsi oltre all'elicottero del 118 di bergamo sono state inviate l'automedica e due ambulanze della croce blu di gromo e del corpo volontario presolana le persone che viaggiavano sulla mercedes sono state trasportate tutte in codice verde all'ospedale di piario con le due ambulanze l'elicottero ha invece portato in codice giallo all'ospedale papa giovanni di bergamo la conducente della jeep sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di clusone e i carabinieri soccorsi in azione a valcanare nella tarda mattinata di oggi l'allarme è scattato poco dopo mezzogiorno un uomo di 39 anni è caduto nella zona del rifugio alpe corte procurandosi una lussazione a una spalla per i soccorsi sono intervenuti i volontari del soccorso alpino di oltre al colle i vigili del fuoco di gazzaniga l'uomo è stato recuperato e trasportato a valle con un fuoristrada dei vigili del fuoco è stato quindi accompagnato da un'ambulanza dalla croce verde di colzate all'ospedale di piario dove è giunto in codice giallo e nel primo pomeriggio a castellina presolana è scattato un allarme per un incendio boschivo le fiamme si sono sviluppate in località denzil sopra bratto sul posto sono intervenuti gli operatori della protezione civile del corpo volontario presolana otto uomini in tutto con due moduli per spegnere le fiamme è stato richiesto anche l'intervento dell'elicottero della regione che si è alzato in volo da velminore di scalve con rotazioni da tre minuti pescando l'acqua in località predusolo a castione il velivolo ha effettuato 12 lanci e consentito di domare in fretta l'incendio e poi scattata la bonifica da parte della protezione civile sono bruciati circa 3.000 metri quadrati di incolto oltre a qualche albero l'intervento è stato coordinato dal direttore operazioni spegnimento della comunità montana vale seriana valeri zucchelli sul posto anche i carabinieri forestali di vi minore di scalve si tratta del primo intervento per la protezione civile del corpo volontario presolana che con l'inizio del 2020 ha preso in gestione le servizie sul territorio di castione in forza di una convenzione stipulata con il comune due incidenti stradali si sono verificati oggi nell'arco di mezz'ora in valgandino il primo è accaduto a casnigo intorno alle ore 16 lungo la provinciale in zona dobenca secondo le prime informazioni il rimorchio di un camion sarebbe finito contro un'auto in sosta non ci sono stati feriti ma l'incidente ha mandato in tilt la viabilità della strada provinciale il secondo incidente si è verificato a gandino poco prima delle 16 30 proprio di fronte alla caserma dei carabinieri due i veicoli coinvolti in questo caso e voltiamo pagina giornata di lutto a valgoglio dove oggi è stato celebrato il funerale di don attilio sarzilla ultimo commosso saluto a uno dei due preti gemelli pittori don attilio sarzilla spentosi nella notte tra il 30 e 31 dicembre presso la casa di riposo di scanza rosciate dove si trovava dai primi di dicembre a dire addio al sacerdote 91enne era nato il 28 ottobre 1928 a bergamo sono arrivati in tanti molte persone hanno partecipato al funerale rimanendo fuori dalla gremita chiesa parocchiare dedicata a santa maria assunta davanti ai numerosi primi cittadini e sacerdoti concelebranti anche gonfalone gli stati a lutto dei comuni di valgoglio e grone sull'altare anche il fratello gemello giovanni con il quale don attilio era stato ordinato sacerdote il 30 maggio del 1953 la presenza anche del vicario generale della diocesi monsignor davide pelucchi ha preseduto il vescovo di bergamo monsignor francesco beschi don attilio con l'inseparabile il fratello don giovanni amava dipingere ritratti e gentilmente mi ha fatto dono di quello dei miei genitori un esercizio non solo ma di rappresentazione dell'anima possiamo credo condividere il convincimento che nell'opera di don attilio di don giovanni noi abbiamo riconosciuto questa ricerca in ogni uomo riconoscere un tratto del volto di gesù don attilio ha amato la montagna ma non solo la montagna ha amato dio che si rivela e si incontra sulla montagna e allora vogliamo ricordare e consegnare al signore don attilio nel segno della carità la carità del pastore che la stessa carità di dio per cui è diventato pastore la carità che amore fraterno che ricerca del bene dell'altro che è condivisione e aiuto reciproco la carità che abbiamo visto esercitare in maniera fraterna tra don attilio e don giovanni la carità della comunità delle comunità che ha servito nel nome del signore e alle quali ha donato l'amore del signore anche ora in questo momento la nostra prechiera è il supremo gesto di carità e di amore per lui benediciamo il signore per il don e la testimonianza di don attilio l'uomo che tratteggiava volti per mostrarci il volto l'uomo che amava la montagna ma prima di tutto dio che abita le montagne e di amore per lui benediciamo il signore per il don e la parola e di amore per lui benediciamo il signore per il don e la parola e ieri mattina in tanti hanno preso parte alla santa messa sul pizzo formico celebrata da don tommaso frigerio vice rettore del seminario di bergamo sulla vetta del pizzo formico si è rinnovata ieri mattina quella che ormai una tradizione la messa del primo giorno dell'anno all'ombra della croce a quota 1632 metri la messa davanti a numerosi fedeli arrivati da clusone e gandino è stata celebrata da don tommaso frigerio vice rettore del seminario di bergamo al don martino si era inventata questa messa alla croce del pizzo formico e quindi anche un debito di riconoscenza lo ricordiamo adesso che don martino penso che ci seppellirà tutti però dal lato dei suoi 93 anni non può salire qui con noi lo ricordiamo che senz'altro nel suo cuore è qui presente e vivo proprio fisicamente qua quindi lo ricordiamo molto molto volentieri preghiamo per la sua salute e siamo nella cattedrale più bella del mondo e quindi bisogna portare rispetto per i posti importanti se non è presente qui il signore che siamo a un passo da lui allora non lo troviamo da nessuna parte siamo saliti qui al pizzo formico penso con tanti pensieri nel cuore il primo di iniziare l'anno guardando tutto il bello che il signore ci ha donato gustando dell'amicizia delle persone con cui siamo saliti e forse nel cuore abbiamo qualcuno da portare qua mi piacerebbe che in questo in questa cornice così bella così importante ognuno di noi possa chiedere a maria madre di dio che oggi ricordiamo in questa solennità così speciale possa chiedere la grazia di avere sempre uno sguardo capace di andare oltre oltre quello che viviamo di sapersi fermare quando il paesaggio è aperto ma soprattutto di saper bucare la nebbia che spesso scende nelle nostre vite siamo al primo gennaio saremmo degli illusi se pensassimo che il 2020 sia costellato soltanto di successi epocali penso che qualcuno il sedere in terra lo dovrà appoggiare qualche volta perché lo scivolone qualcosa che provoca teniamo a mente quello che qui la natura ci insegna e il signore attraverso la natura ci comunica possiamo sempre guardare oltre cerchiamo di leggere la presolana dietro alle nuvi che spesso ci chiudono lo sguardo penso che giornate come queste siano i modi più belli con cui possiamo iniziare un nuovo anno è un posto bellissimo è la prima volta che salivo ed è un onore per me essere qua per il cinquantesimo anniversario di questa celebrazione iniziare l'anno con tutto questo bello che c'è intorno a noi una giornata stupenda da un punto di vista del clima tantissima gente credo che sia il modo che abbiamo noi uomini per dire grazie al signore ecco grazie per quello che ci ha donato in tutto quello che è natura mondo amicizia relazioni e grazie anche agli compagni di strada che abbiamo e fare un po di strada il sentiero per venire qua è anche il modo bello per sperimentare come nella fatica troviamo sempre il riposo del cuore sono contento di arrivare qua perché dopo 50 anni dopo 70 anni e poi la viale è lunga sono marco meloni vengo da sovra sono venuto qua sul pizzo formico a fare una passeggiata e ho visto che c'era il la festa del cinquantesimo della croce del pizzo formico e niente ho fatto una suonata così tanto per contribuire alla alla festa e mi chiamo Sara e lei la migliore a me l'aurora è una bella giornata ed è divertente che stiamo con la nostra famiglia e ci siamo incontrati qui per caso è vero sono brignoli fabrizio presidente del volomania volo libero valgandino e siamo qui come tutti gli anni a fare il volo del primo giorno dell'anno noi amici del club alpi fly quest'anno per noi è un anno speciale è un anno che ci vedrà impegnati in una gara a livello italiano dove verrà assegnato il primo campionato di italiano di hack and fly nella piana di clusone e nella piana di gandino auguri e che sia un anno sereno di tanta gioia e a piario è stato allestito presso la casa museo della compagnia del fil de fer un presepe particolare vediamo il servizio di nicola androletti nella chiesa parrocchiale di piario è allestito il presepe della tradizione a cura della compagnia del fil de fer un'idea che risale a dieci anni fa sì appunto come stai dicendo dieci anni fa abbiamo fatto il presepe con i gruppi di tradizione dell'alta valle quest'anno dopo dieci anni abbiamo voluto riproporlo noi cosa abbiamo pensato abbiamo pensato di trovare uno spunto da una casa vecchia tipica del paese con gli archi bassi e le colonne e abbiamo allestito questo presepe che abbiamo tutti gli abiti originali nella nostra vetrina questi sono proprio gli abiti tradizionali dell'alta val seriana che abbiamo in custodia noi la casa museo e uno a uno li abbiamo riproposti questo presepe negli anni è stato anche in altri paesi in altri contesti sì ce l'hanno richiesto onore gli amici di onore gli amici di gandino gli amici di bossico hanno voluto cioè più che faglielo noi l'hanno fatto loro e hanno voluto le nostre statuine per coronare la loro natività come nascono questi costumi che vediamo indosso alle statuine? noi abbiamo i vestiti che nel museo tutti quelli originali al nostro presidente gli è venuto in mente di fare il presepe con i costumi riprodotti tutti piccolini ma ci ho detto ma non sai che lavoro che c'è dentro bisogna lavorarli tutti a mano perché con la macchina così piccolini non riesci a metterli sotto la macchina e ma dai ma dai dopo dirgli di no è come dirgli di sì abbiamo incominciato ne abbiamo fatti due o tre tanto per vedere vedevamo che riuscivano bene siamo partiti con tre o quattro poi cinque o sei e adesso siamo arrivati qua che sono quattordici o quindici ne valso la pena perché noi al nostro paese ci teniamo Piario per noi è Piario tutti fatti a mano quindi avete anche i Re Magi sì non lo so il mio presidente dove è andato a prendere dei mantelli o delle cose dei preti un po' vecchi abbiamo tirato fuori tutto quello bello abbiamo fatto i mantelli dei Re Magi ci guardi che meraviglia no perché lì abbiamo fatto noi noi ma proprio sono belli e questa è una grande soddisfazione anche se abbiamo lavorato parliamo anche della casa che avete messo in questo presepe allora la casa è una tipica casa come ho detto prima di Piario l'artefice è Vittorio si vergogna un po' a parlare però è il mio braccio destro è lui che recupera tutti i pezzi per non farmi spendere e Francesco che è l'assessore al comune di Piario che diciamo che è un ragazzo giovane con la passione proprio dei presepi è lui che mi ha dato una grossa mano e una spinta anche a costruire la casa e insieme a Vittorio siamo riusciti a portare a termine questo progetto che è qua da vedere proprio bello ci fermiamo per una breve interruzione tra poco eccoci in onda con il telegiornale di Antena 2 ora andiamo a Rovetta dove sabato pomeriggio è in programma un particolare appuntamento sabato 4 gennaio a Rovetta in programma un appuntamento buono in tutti i sensi esatto abbiamo organizzato questa merenda benefica a favore dei Jake con la collaborazione della Proloco e di alcuni commercianti che contribuiranno per rendere questo pomeriggio un pomeriggio divertente, goloso e soprattutto di beneficenza quindi come avete articolato il pomeriggio? il pomeriggio è diciamo suddiviso in tre fasi ci sarà un momento di accoglienza quindi la manifestazione inizierà alle ore 15 a seguire verso le ore 16 ci sarà un po' di innamazione per tutti i bambini con la presenza dei Giusi e la Zumba alle ore 17 ci sarà una sfilata che sarà animata sia da bambini che dagli adulti con la collaborazione di alcuni negozi di Rovetta alcuni commercianti e tutto questo appunto con un filo rosso che unisce i vari momenti che sarà questa merenda benefica che consisterà nel rompere l'albero che vedete che è un prodotto artigianale fatto da noi l'obiettivo sarà quello di smontarlo quindi chiederemo una piccola beneficenza per ogni pallina di cioccolato e poi la struttura sottoportante la spaccheremo e sarà il contenuto della nostra merenda quindi pane e cioccolato, vin brulete, caldo, tutto offerto anche dalla Proloco l'idea di questa manifestazione è nata così chiacchierando insieme alcune persone che lavorano in Proloco come volontari e ci sembrava bello sfruttare questo albero di cioccolato che è composto da più di 300 palline tra quelle grandi e quelle piccoline ricordiamo che Jake è un ragazzo che vive in Inghilterra il papà è originario di Rovetta ora sta facendo queste cure a Los Angeles e vogliamo tutti contribuire e dargli una mano per sostenerlo in queste cure che comunque sono onerose quindi il mio ringraziamento è il ringraziamento a nome di tutti i commercianti di Rovetta per la Proloco e il comune di Rovetta che ha contribuito attivamente a organizzare l'evento e vi ricordiamo quindi la merenda benefica a favore di Jake per sabato 4 gennaio dalle ore 15 alle ore 18 vi aspettiamo numerosi ora ci occupiamo delle condizioni climatiche di questi giorni Pierino Bigoni del gruppo micologico Bresadola di Viladogna ha notato alcuni fenomeni particolari sentiamo ma la natura non va mai in vacanza la natura segue dei ritmi particolari non guarda il calendario dicembre gennaio e ieri ero in zona della cornagiera un bel posto temperatura mite era in maglietta addirittura non è mai capitato purtroppo è bello da vedere ma purtroppo per chi soffre di allergie da pollini già il nocciolo Cori di Suavellana ha già buttato i pollini c'era già una bella fioritura di pollini molto belli da vedere perché si vedono gli amenti maschili se si guarda con attenzione in cima ai rametti c'è il fiore femminile bellissimo fiore da guardare con la lente praticamente tramite il vento c'è l'impollinazione questo è un ciclo naturale che è una cosa meravigliosa da vedere la natura lascia sempre degli sprazi molto belli ecco lo scorso anno lo stesso fenomeno è stato documentato però a febbraio inoltrato a febbraio sì l'anno scorso appunto seguo un po' l'evoluzione anche dei pollini che mi piace studiare anche quelli oltre ai funghi le piante cioè tutto quello che riguarda la natura e i pollini mi affascinano praticamente perché ogni pianta ha il suo tipo di polline perciò seguo l'evoluzione ho già iniziato a fare delle foto con microscopia sui pollini e molto belli da vedere appunto perché si distinguono da una pianta all'altra come ho detto prima è molto bello oltretutto quando si trovano quelle fioriture sui noccioli questi amenti uno che non soffre di allergie scuote un po' la pianta e vede una nuvola giallastra praticamente che sono tutti i pollini che si propagano tramite il vento ecco in qualche giardino già qua e là si vede qualche primola, qualche fiore poi ieri oltretutto ero su a 1400 metri e la fioritura di Tarasaco cioè la cicoria è già fiorita siamo in anticipo di stagione però può darsi ancora che ritorni il freddo e blocchi tutto però come dicevo prima la natura non segue il calendario ma segue le condizioni climatiche condizioni climatiche belle per fare delle passeggiate attenzione perché come ho notato ieri c'è il fondo ghiacciato sempre sopra lì si cammina bene però attenzione perché c'è il fondo ghiacciato e si può scivolare perciò fate molta attenzione anche sulle passeggiate che sembra tutto bello, tutto a posto invece ci sono delle condizioni climatiche da seguire per approfitto di questa trasmissione di Antena 2 grazie ringrazio tutti per la cordialità e lo spazio che ci dà il gruppo micologico auguro a tutti un buon anno e sia un anno produttivo anche a livello di funghi ho già trovato anche qualche piccola fioritura di funghi funghi prettamente invernali però anche quelli danno soddisfazione ci auguri a tutti e un buon 2020 e ora continuiamo con la rubrica biberone dedicati ai bambini nati presso l'ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti una breve pausa tra poco Rieccoci in onda con il telegiornale di Antena 2 ora continuiamo con la programmazione televisiva questa sera sul canale 88 alle ore 20 e 30 trasmetteremo la basket della serie A2 femminile Fassi e del Vice Albino del Ser Udine alle 22 e 30 la seconda edizione del nostro telegiornale alle 23 e 15 la rubrica di sport invernali Ski Magazine e alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro notiziario il telegiornale di Antena 2 tornerà in onda alle ore 21 e 30 sul canale al numero 218 del Digitale Terrestre mentre invece sul canale al numero 628 il canale sportivo alle ore 20 trasmetteremo Antena 2 Sport a cura di Lisa Cucchi mentre alle 21 la partita di pallavolo femminile della serie B1 CBL Costa Volpino Tecno Team Albese Ecco l'Amanacco per domani venerdì 3 gennaio il sole sorge alle 7 e 56 e tramonta alle 16 e 53 il culmine alle ore 12 e 24 la durata del giorno di 8 ore e 57 minuti la luna sorge alle 12 e 30 e tramonta alle 1 e 12 di venerdì la fase lunare la luna è crescente ed è visibile al 52% la Chiesa celebra il nome di Gesù ecco anche le previsioni del tempo su tutti i settori cielo molto nuvoloso per nubi medio-alte con temperature in aumento ancora miti per il periodo e con questo è tutto noi vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata e vi auguriamo